Vincenzo Montella, Teatro Stabile di Strada Antiche madri, voi già lo sapete, ma ve lo racconto. Lo racconto per sentire la mia voce, per ascoltare io questa storia, per narrare a me stessa che è accaduto. Madonna dell'arco, Madonna delle galline, Mamma Pacchiana, Madonna dei banni, Madonna dell'avvocata, Madonna di Materdomini, e tu, che sei scappata sulla montagna pensando di essere la più brutta e invece mi sei più cara, mamma schiavona. Belle figlie di Sant'Anna, voi già sapete tutto, ma datemi la voce per raccontare e statemi a sentire. Ciro era tornato a Napoli dopo che se n'era andato. Tornato perché si era trovato senza famiglia e senza identità, qualcuno che nessuno vuole, e sentiva freddo. Mamma mia, che freddo! Cercava calore, cercava gente che gli scaldasse il cuore, e l'ha trovata. Quanta ce ne stava! Una folla che passava e non capiva. Sorridevano alla miseria, contavano le pietre per la strada, si fotografavano gli uni con gli altri e non vedevano niente. I napoletani li guardavano passare davanti ai bassi, sotto le finestre, pareva un fiume in piena. Non li sapevano fermare, non gli potevano dire niente. Vivevano la propria storia, ma non la sapevano narrare. Erano troppo occupati a vivere per poter raccontare. Lui era fuori dal giro, era fuori fase, guardava la giostra girare. Ha fatto capire agli altri che erano a teatro, solo che non si poteva dire chi guardasse e chi recitasse. Si raccontavano gli uni agli altri, ridevano gli uni degli altri, ballavano insieme. Non è bastato, non era solo teatro, era pure vita. Era miseria, violenza, disperazione. Antiche madri, voi già lo sapete. Ha recitato, ma non è stato capace di campare.